Ciao Beh, dai scendi No, 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 aspetta, aspetta, aspetta Ti devo dire una cosa Che è successo? Marco, tu eri il mio ieri Sei il mio oggi E sarà il mio domani Cazzo, tre giornate di merda Quanti hanno fatto E ti dici che sei una persona A te, guarda Signorina Dana Dondino Buongiorno Sto cercando soprattutto i tetti Fa caldo Lo spazzacamino devo fare Come ti trovi con questa classe che ti ho affidato Diciamo, questi bambini Come li vedi, catechesi Belli, fantastici, va benissimo Però sono troppo curiosi Dondino, l'altro giorno uno non mi fa Maestra, ti posso fare una domanda? Dimmi, mi dici che facevano gli animali sull'arca di Noè? Cioè, come passavano il tempo? Dondino, io non gli ho detto niente Cioè, non lo so Perché è una storia assurda Una storia, sai, proprio di abbandono Non potevano fare nulla gli animali Se un animale aveva un'iniziativa Veniva pure stroncata Sì, 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 perché te lo dico Cioè, pochi sanno Che Noè non permetteva di fare agli animali nulla Nulla Non a caso era soprannominato Noè? Noè? Come faccio una cosa? Arrivati a dire Noè? Noè? L'hanno chiamato da sì Che c'è un pezzo Vabbè, comunque, stacco Non a dire a nessuno Tra nulla